Gentili telespettatori buona giornata, Salvini continua a dire l'opposto di quello che fa anche il giorno dopo. Il giorno dopo che il governo all'unanimità dice sì al lascia passare obbligatorio per tutti i lavoratori, ovviamente su ordine di Salvini i ministri dicono sì e anche in Parlamento e in Senato hanno dato assolutamente il loro sì, uniti col governo per il primo decreto Green Pass esteso, oggi come il giorno prima di aver detto sì, continua a dire ma questo Green Pass non si può complicare la vita agli italiani, noi stiamo combattendo per i tamponi gratuiti, ancora con questi tamponi gratuiti, anche lì aveva cambiato idea 5, 6, 7 volte, un giorno gratuiti, un giorno si pagano ma solo alcuni gratuiti, poi è tornato gratuiti, poi di nuovo no solo per alcuni, poi di nuovo gratuiti, di nuovo no, oggi torna di nuovo col gratuiti per tutti ma non è certo perché ha fatto delle dichiarazioni oggi dove dice almeno per i minorenni, eh? Perché? Vabbè, chi lo sa, è la logica del sì no forse. Lui sta combattendo per i tamponi gratuiti ma dimmi un po', ma se il decreto è appena stato firmato e c'è un elenco di cose e lì non si parla di tamponi gratuiti ma si parla di tamponi col prezzo che mi chiamano calmierato, che fa ridere no? Solo 15 euro fino al 31 dicembre e solo 8 euro per i minorenni. Dove stai combattendo per i tamponi gratuiti? Ma dove? Se il decreto è stato firmato ieri che cosa stai combattendo? Ma lui è andato da, da come cavolo si chiama? Da Del Debbio a dirgli queste cose. Intanto è andato da Del Debbio a dire ringrazio lei, Giordano, Porro, perché con voi io posso dire, fare, voi, voi. E Del Debbio fa sì va bene, ok, andiamo avanti. Non so, l'avrete visto no? Mentre Salvini cercava di imbonirsi Del Debbio e gli altri due perché secondo Salvini sono quelli che lo difendono, Del Debbio, Giordano e Porro. Caro Salvini, non so quanto i tre conduttori giornalisti televisivi di area, chiamiamoli così centrodestra, possano continuare a difenderti le tue posizioni politiche che poi non sono delle posizioni perché uno che dice sì no forse non ha una posizione politica. La posizione politica è non avere una posizione politica, eh? Avete capito? Cioè la linea politica di Salvini è quella di non avere una linea politica. Bella questa, eh? Mo ma segno. E così lui loda questi conduttori e ho visto proprio la risposta di Del Debbio, sì sì vabbè andiamo avanti, sì sì vabbè come dire, Del Debbio perché sotto il teleschermo passavano le domande che Del Debbio aveva sul foglio ma che la trasmissione faceva passare sotto. Erano le domande che Del Debbio doveva fare a Salvini in modo che Del Debbio le faceva a voce scritte sul foglio e poi la trasmissione automaticamente ha fatto venire fuori queste domande. Non lo so se Del Debbio si è fatto intenerire da Salvini che diceva grazie a lei Porro e Giordano ma c'era la domanda la Lega ha perso con questo decreto ma la domanda non è stata mai fatta. Del Debbio alla fine non gli ha detto la Lega ha perso perché gli aveva appena detto grazie a voi e diceva adesso gli devo dire la Lega ha perso. Allora quella domanda non è mai stata fatta perché l'ho vista tutta l'intervista perché Salvini da Del Debbio trionfa l'intervista dove lui dove Del Debbio alla fine la domanda se la Lega ha perso non gliel'ha fatta perché la realtà non avrebbe fatto molto piacere a Salvini avrebbe detto che poi anche Del Debbio era passato dall'altra parte come me visto che io critico le ultime scelte politiche di Salvini sono diventato anch'io un cattivone. Comunque se voi volete sentire idolatrare Salvini come dice lo stesso Salvini guardate Porro del Debbio Giordano che non credo che continuino sulla linea di glorificare Salvini forse una volta lo difendevano come lo difendevo io il fatto è che Salvini è cambiato completamente mentre i giornalisti non sono cambiati vedono il cambio e lo fanno presente qualche giornalista ancora è restio a dire la sua ma vedrete che prima o prima tutti ci arrivano l'unica che è rimasta fedelissima è la Maglia che difende a spada tratta tutto quello che dice Salvini ogni tanto fa tenerezza nelle trasmissioni televisive perché è realmente in grandissima difficoltà e come vi dicevo non bisogna fare i tifosi di un partito col paraocchi no 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 è il grande il grande il grande il grande insomma dovete ragionare con la vostra testa poi chi vuole continuare a difendere e pensare che Salvini sia il grande politico da 40 per cento come lui nessuno ecco chi vuole continuare a pensare che sa che come Salvini non c'è nessuno che lui è il grande Salvini potete continuare a pensarlo non siete obbligati ad ascoltare le mie critiche se volete vivere in una realtà che non esiste in una ipotetica bolla di finzione dove c'è solo il grande Salvini siete liberi di farlo se non vi piace quello che dico potete non guardarlo più il canale potete andare da un'altra parte non lo so dove in youtube non so che se ci sono canali che idolatrano Salvini non se volete sentirvi dire la storia di Babbo Natale non saprei consigliarvi dove andare quale canale vedere e ascoltare le storie di Babbo Natale se volete sentirvi solo dire che Salvini è il grande il magnifico il più leggendario politico che l'Italia abbia mai avuto non saprei consigliarvi quale canale non so neanche se esiste io non vi dirò più che Salvini è il grande politico io sto valutando le sue scelte secondo due sondaggi due sondaggi e sono sondaggi il capo della Lega avrebbe perso in sette giorni un milione e duecentomila elettori pari al tre per cento un tre per cento più o meno a sono più o meno visto che gli elettori sono circa 40 milioni in Italia fate fate il conto il tre per cento di 40 milioni sono un milione duecentomila pertanto non sono poi così strano io eh uno scrive chissà come mai il professore ma cosa gli avrà fatto Salvini a me non ha fatto niente è lui stesso poi attenzione colpa di Giorgetti 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 insomma se il vero capo è Giorgetti vuol dire che il capo che c'è adesso non vale niente cioè se se il numero due fa il capo vuol dire che vuol dire che il capo non è capace ad essere il capo e allora ancora di più la mia tesi che non è che non va bene Salvini è acclarata quindi voi per difendere Salvini dite no è Giorgetti lui poverino ma come un capo politico poverino si fa comandare dal suo vice allora mi date ragioni ancora di più che Salvini non va bene ecco grazie a tutti e buon proseguimento di giornata